Fano Fiorisce torna per il terzo anno e non è solo per i possessori del Pollice Verde ma anche per tutte quelle persone che oggi vogliono dare un contributo alla città e mettere al centro il tema del fiore ma fortunatamente diciamo che si è evoluto in questi tre anni si è anche arricchito di più contributi proprio perché è una manifestazione inclusiva di più diciamo di più mondi quest'anno abbiamo deciso di mettere al centro il tema dell'arte della cultura cultura proprio come bambini nelle scuole mostre quindi includendo anche proprio dei viaggi all'interno della città su delle dei musei e dei beni monumentali e arte anche perché proprio l'arte si manifesta nella cucina piuttosto che magari in altri in altre occasioni come quelle da programma che è anche molto ricco e interessante visitiamo e vi invitiamo a partecipare perché è davvero una Fano Fiorisce originale quest'anno la location è ai giardini della Rocca quindi siamo all'interno di un giardino con i fiori diventerà ancora più bello e vi ricordo che ci saranno degli incontri del verde a tema del verde dei laboratori a cura degli espositori questo nella giornata di venerdì venerdì mattina venerdì pomeriggio e anche sabato parleremo della cura dei ciclamini che è il fiore tipico autunnale che poi ci porteremo avanti fino alla primavera poi il sul mantenimento e le caratteristiche del peperoncino e anche di aromatiche fiori eduli per quello che riguarda le piante da tenere in terrazzo paolo parlamento tosco hotel degli insetti è un laboratorio per i bambini vi consigliamo di visitare la pagina facebook di Fano Fiorisce per l'iscrizione dove ci sarà un numero di telefono per le iscrizioni per le iscrizioni